Il primo mese è uscito un documento della Commissione europea in cui si parla proprio dell'utilizzo dei siti internet all'interno della comunità europea e i dati più significativi li abbiamo riportati all'inizio della presentazione perché pensavano potessero essere poi utili e in qualche modo confermavano anche le linee di indirizzo del nostro lavoro. Infatti il primo dato è che il 55% degli internauti europei utilizza almeno una lingua diversa dalla propria per accendere contenuti di diverso tipo sul web. Tra questi il 81% ricerca di informazioni e notizie, sesto forma di test e mangi filmati e il 62% comunica con amici o conoscenti, sempre in lingua straniera e il 57% sempre in questo 55% cerca, ricerca prodotti o addirittura compra prodotti e vanno utilizzando la rete, sempre in lingua straniera. Il fatto, diciamo, una discussione che abbiamo avuto all'inizio di questo percorso all'interno del gruppo disciplinare è stato che in realtà i ragazzi sono molto abituati a utilizzare l'internet, lo fanno continuamente ormai, lo fanno spesso a me a scuola in attività come small kill, attività kill, in classe, da quest'anno prevalentemente, però ci siamo anche accorti che non è così banale per i ragazzi navigare e utilizzare questi siti in lingua straniera. Infatti il barometro ci dice che il 44% degli intervistati pensa di averte lasciato informazioni interessanti a causa di un'insufficiente padronanza di un po' straniera e quindi questo in qualche modo casca a fagiola perché conferma il fatto che fosse importante lavorare su questo aspetto, su questa competenza. La competenza è questa, quindi la lettura di testi sequenziali e discontinui online finalizzata alla progettazione di un viaggio all'estero. Quindi in qualche modo abbiamo messo insieme quello che diceva la prima slide e quindi i testi, quindi la ricerca di informazioni, ma poi finalizzata a, ad esempio, questo è un prodotto che potrebbe essere quindi la prenotazione di un biglietto aereo e la prenotazione di un hotel e biglietti per attività, insomma, attività da fare poi all'estero. In questo modo siamo riusciti a coinvolgere entrambe le lingue facendo poi il tesoro e il lavoro che in qualche modo facciamo tutti i giorni in classe. Quindi non è stato un lavoro completamente aburso dalla gestione della classe tutti i giorni. E per sondare questa competenza abbiamo dovuto in qualche modo ideare o organizzare un compito significativo che in qualche modo prevenisse la decomposizione dell'obiettivo formativo, di conoscenza e di abilità e la conseguente perda di sesso del processo. E questo tipo di compito doveva in qualche modo mirare alla responsabilizzazione dei soggetti coinvolti integrando il prodotto con i processi. E per fare ciò quindi abbiamo dovuto anche creare o comunque bastire un setting di lavoro diverso, abbiamo deciso di strutturare un setting di lavoro diverso rispetto a quello di tutti i giorni e abbiamo infatti trovato uno spazio di aziendazione all'esterno dell'aula scolastica e quindi uno spazio di azione fisico, cioè il laboratorio di informatica, o qualche informatica qua adeccente a quest'aula, e anche uno spazio virtuale, il web. Il progetto quindi, come dicevo prima, si è basato sull'utilizzo di lingue straniere e utilizzando, facendo leva su un compito autentico, il più autentico possibile. E un altro aspetto che doveva caratterizzare i suoi setting in cui lavorare era l'autonomia di lavoro degli studenti e un confronto finale. Quindi abbiamo cercato di aggiungere elementi, interiore elementi da osservare, insomma. E questa è la consegna, un po' riassunta, perché era un po' più lunga, e l'attività, il percorso consisteva nell'organizzare un breve viaggio a Buenos Aires per le vacanze di Pasqua, in quel periodo lì, e utilizzando siti forniti dagli insegnanti in lingua straniera, completamente in lingua straniera, per organizzare quindi questo viaggio in cui dovevano essere presenti due familiari, quindi portare all'esprimio della famiglia. E in qualche modo veniva richiesto ai ragazzi di organizzare questa vacanza a partire dalla prenotazione dei bietti aerei fino al, poi il, insomma, decidere cosa fare, cosa fare, cosa vedere. Oltre a ciò, derivano ovviamente date alcuni paletti, quindi già il fatto di applicare dei siti predeterminati, quindi non consentire la navigazione libera, è stato un dei primi paletti che abbiamo deciso di mettere, di mettere, quindi per tenere un continuo più sotto controllo del lavoro dei ragazzi, e quindi abbiamo fornito loro una psicografia, e poi abbiamo dato il budget, e non moltissime altre indicazioni, se non poi una scheda da compilare, quindi per in qualche modo riportare, non so, quanto era stato speso, per l'aereo, alcune altre notizie sui luoghi di interesse, eccetera. Ovviamente i siti erano molto diversi, erano molto diversi l'uno dall'altro, perché, per esempio, il primo era quello della Delta Airlines, americano, e era, diciamo, composto più che altro da testi, quindi non continui, era un continuo rimando, e invece il secondo, gli altri siti erano di tipo più, meno impertestuali, in qualche modo i testi erano, si può dire, più continui. E all'interno dell'attività, una cosa che fosse più importante, all'interno dell'attività è stato previsto che ci fosse un confronto, un confronto per motivare le scelte dei ragazzi, per permettere ai ragazzi di motivare le scelte e di confrontarle con quelle di un fanno. Subito dopo, quindi, è stato necessario strutturare una rubrica valutativa che adesso ho messo, non so che lo scriviamo qua, ma poi vediamo soltanto un piccolo particolare, per non fare troppo la distanza, e questa rubrica si è composta da quattro dimensioni, diversi criteri, e poi ogni criterio ha, per una maggior parte di criterio, abbiamo segnato un livello, e, diciamo, le prime due dimensioni sono, se fanno forse un pochettino di più, al quadro che o delle lingue, e che ci ha permesso, ci è stato un po' al nostro faro, per cercare di inquadrare meglio le competenze di tipo linguistico, e quindi meno trasversale. Invece, la terza dimensione, che è quella, forse, che abbiamo chiamato, una dimensione un pochettino più sommersa, rispetto alle altre, e quella, come dicevamo stamattina, forse meno prevedibile, e in cui noi andavamo a sondare l'autonomia operativa e relazionale dei ragazzi, e per fare ciò, ovviamente è stato necessario preparare degli strumenti di valutazione, degli strumenti di osservazione e di valutazione, fatti apposta, per sondare, appunto, questa dimensione un pochettino più sommersa. e quindi il passo successivo è stato quello di confrontarci su che cosa, quali caratteristiche dovessero avere questi strumenti, per riuscire innanzitutto a diversificare gli strumenti, quindi strumenti che qui li raccogliessero un po' diversi punti di vista. E un altro punto essenziale era quello di fare in modo che questi strumenti raccogliessero e analizzassero tutti senza tralasciare nessun punto della rubrica, quindi che in qualche modo fosse l'insieme di questo corrente, ma anche esaustivo della rubrica, che crea inutile la vostra parere, creare una rubrica che però poi, insomma, non contenesse poi di buchi al momento di risolvazione e della valutazione. Inoltre abbiamo voluto trovare, creare strumenti di raccolta e confronto dei dati provenienti da diverse costruttive. Quindi questo è stato fondamentale, ma poi vedremo in dettaglio il perché. e quindi abbiamo visto che la rubrica, sempre il nostro punto di partenza è stata la rubrica e non ci siamo mai indicati il fatto delle dimensioni, abbiamo sempre lavorato cercando di essere più coerenti possibili con le impostazioni di partenza e la rubrica quindi ha generato una serie di strumenti che si, quindi la scheda di osservazione per l'analisi anche del prodotto finale, le questionari di autovalutazione e la discussione finale e la valutazione tra pari. E questi tre, diciamo, punti di vista, queste tre prospettive si andavano a incontrare poi in un altro strumento che era la maschera di valutazione nominale, quindi ad ogni ragazzo è stato segnato una maschera, un schema, una scheda in cui puoi poter raccogliere tutti i dati per poter poi analizzarlo e, diciamo, il primo, la prima, insomma, la prima, la prima, la prima strumento era quello che andava un po' a vedere un po' cosa pensassero, cosa avessero pensato i ragazzi dell'attività e in qualche modo cosa alla luce dell'attività svolta a cosa i ragazzi pensassero di aver in qualche modo appreso di saper fare alla fine di questa attività. E questo, l'autopalutazione è stata retinata, è stata retinata da gruppo perché in qualche modo è necessaria per comprendere i percorsi più personali in ogni gruppo dei singoli ragazzi e tenendo sempre presente che volevamo un approccio più multidimensionale più multidimensionale possibile. E poi, l'altro punto importante per noi era che la riflessione del soggetto fosse in qualche modo focalizzata sul nostro processo, sul processo di apprendimento di una terapia. di un'attività e questo, come è venuto questo? Utilizzando il questionario di valutazione online che abbiamo raccontato soltanto i primi due quesiti per virgolette e anche questi si fanno un pochettino al sono stati impostati come un'affermazione di quello che i ragazzi sono stati in grado di fare alla luce dell'attività svolta. E quindi ad esempio se abbiamo chiesto se fossero poi in grado di trovare informazioni online se fossero in grado di organizzare una vacanza eccetera. Non abbiamo portato ovviamente tutti i punti però abbiamo cercato di non abbiamo fatto domande in qualche modo aperte ma siamo cercati di focalizzare solo con i punti che ci interessavano maggiormente. E poi ovviamente abbiamo dovuto tabulare i dati raccolti e questo è stato piuttosto eliminativo con però ci si è servito per analizzare i dati provenienti dal processo di autodolazione e per esempio questi sono due alcuni esiti delle ultime domande in cui poi si chiedeva se quindi se si dovessero organizzare la vacanza erano stati in grado e quindi direi che la stragrande maggioranza ha risposto affermativamente e poi abbiamo chiesto anche perché alcune cose sono andate storte se sono andate storte perché eccetera quali strumenti quali strumenti compensativi avessero usato come inizionare o traduttore automatico perché noi abbiamo lasciato la libertà di utilizzare qualsiasi strumento di consultazione nel suo opportuno cioè il traduttore la regolatrice il dizionario il dizionario online di lingua e non lingua e quindi queste sono importanti per capire se i ragazzi saranno stati sono in grado di autonomamente di utilizzare strumenti che poi sono potuti come un dizionario o un dizionario insomma e un altro aspetto forse più qualcosa più importante è stato il fatto che noi abbiamo voluto prendere in considerazione anche la valutazione dei pari diversamente degli altri gruppi mi pare forse non tutti gli altri gruppi hanno si sono soffermati su questo aspetto ma noi abbiamo deciso di puntare anche tanto sulla valutazione tra pari e quindi di qui nasce l'esigenza di un confronto finale quindi ecco perché abbiamo deciso di inserire a questo confronto finale e questa valutazione tra pari in qualche modo poteva portare una maggiore ricchezza di spunti e suggerimenti sull'attività stessa ma anche sul modello di lavoro eccetera e in qualche modo permetteva il coinvolgimento di tutti i ragazzi che ovviamente avendo la stessa attività si trovano condividere situazioni e esperienze comuni e in modo anche da fornire dei dati interessanti per il valutatore che non sempre riesce a cogliere tutto quello che potrebbe essere colto da un'attività o comunque potrebbe cogliere questi segnali questi dati meno risultati ad esempio noi non avevamo pensato al fatto che limitare in qualche modo la navigazione online potesse essere potesse rappresentare una criticità dal punto di vista dei ragazzi infatti però questo il fatto di in qualche modo limitare la scelta di limitare la sitografia ci ha poi dato dati interessanti ci ha fatto capire che in realtà quindi la navigazione e l'orientanza in un sito internet non è così semplice quindi se vi sono lasciato più libertà di manovra forse non avremmo capito che era non avremmo colto questa non è così non c'è stato invece il problema nell'organizzazione di carattoli nonostante questi che fossero diversi loro hanno non è stato questo il problema per loro e un altro spunto interessante era che in qualche modo attraverso la valutazione tra pari si è riuscito attraverso il confronto si è riuscito un po' a ricostruire si è riuscito a ricostruire le intenzioni degli autori dei realizzatori dei compiti e oltretutto la cosa forse più positiva è che si è dato spazio si è dato la possibilità di ragazzi di responsabilizzarsi rispetto al compito che stanno svolgendo perché una volta che veniva chiesto a loro di dare un parere sull'amore degli altri e mettersi in gioco allora i ragazzi si sono anche mostrati più motivati più attenti più reattivi più critici ma in senso positivo e in qualche modo abbiamo stimolato anche la loro autonomia di lavoro questa è stata l'impressione che abbiamo avuto e adesso invece alcuni strumenti che abbiamo utilizzato noi insegnanti diciamo il terzo il terzo vertice del triangolo e ad esempio questo in cui la materia di osservazione dell'autonomia operativa internazionale sempre ci siamo rifatti sempre ad analizzare l'ultima dimensione che ci sembrava più interessante e quindi noi insegnanti hanno trovato la necessità che costruivano i ragazzi di essere aiutati di essere qualche modo di fare esempio se i ragazzi avessero portato a termine il lavoro e in che modo avessero partecipato poi alla discussione al confronto finale e quindi in questo modo siamo riusciti a triangolare la valutazione quindi prendendo tre diversi punti di vista diversi e come abbiamo fatto poi a mettere insieme tutti i dati abbiamo ovviamente utilizzato una scheda di valutazione di ogni ragazzo ogni ragazzo aveva una scheda che prendeva in qualche modo che prendeva proprio la rubrica valutativa iniziale in questo modo siamo riusciti a ritornare a ritornare al punto focale delle nostre ricerche in qualche modo perché per ogni ticare noi stavamo lavorando soprattutto sul concetto di valutativa di competenze eccetera e in qualche modo poi siamo riusciti a provare a inserire i dati in questa scheda e per ogni studente siamo riusciti quindi a capire insomma in che modo in che modo in che modo i ragazzi ad esempio si sono la differenza tra la valutazione dell'insegnante e l'autovalutazione quindi notando anche piccole ma grandi differenze tra le nostre impressioni e quelle dei ragazzi e in questo modo poi siamo riusciti a fare albora insieme con il gruppo abbiamo insomma riflettuto molto sui dati che abbiamo raccolto e quindi siamo riusciti a insomma fare delle impressioni che poi ci potranno sicuramente ispirare e non seminare possiamo proporre qualche osservazione da qualche impressione che abbiamo che abbiamo insomma tratto per la vista da questo percorso insomma cercando di essere più insomma pratico e più semplici possibile anche perché abbiamo forse scolato in parte della prima parte dell'incontro magari poi riusciamo a lasciare un pochettino più di tempo per il per il dibattito e la prima osservazione che abbiamo fatto è che in qualche modo si confermano i dati che poi sono usciti successivamente cioè che non è così banale l'esplorazione di un sito internet e nonostante i ragazzi sennò hanno molto abitati a fare se non lo facciano spesso e il problema forse azzardiamo nasce dal fatto che sia così facile riusci a geratizzare la struttura del sito e quindi ad esempio possiamo dire questo ha la luce anche del fatto che una parte dell'attività chiedeva di trovare quale sarebbe stato il clima a Buenos Aires in questo periodo dell'anno e molti ragazzi non sono riusciti a farlo non perché non ci fosse questa informazione sul sito ma perché non riuscivano ad arrivare in profondità alla struttura del sito in qualche modo non c'era in prima pagina meteo insomma quindi dovevano in qualche modo capire dove si potesse trovare questa informazione che scende la cascata avvicinandosi sempre di più verso questa informazione che dovevano trovare e poi abbiamo anche riflettuto un pochettino sul rapporto che intercorre tra autovalutazione e autostima in qualche modo abbiamo avuto un pochettino l'infortunfessione nonostante questo lavoro sia molto limitato sia nel tempo sia anche nella possibilità delle autovalutazioni che potevamo fare in poco tempo ma abbiamo notato in qualche modo i ragazzi che la cui autostima in qualche modo è nota essere molto tanto alta di cui notiamo magari le difficoltà di questo tipo poi si hanno atteso ad autovalutarsi in maniera leggermente più bassa rispetto a quanto poi fosse la valutazione dell'insetto da parte nostra di insegnanti e noi quindi abbiamo pensato che il problema fosse il fatto che i ragazzi non sono abituati all'autovalutazione o in qualche modo non li abbiamo guidati abbastanza maturando anche questa possiamo chiamare la competenza questo questo atteggiamento critico e quindi è una cosa che ci siamo riproposti anche di cercare di utilizzare un po' di cercare di stimolare che è una cosa che non possiamo fare da soli con il gruppo inglese ma dovrebbe essere una cosa più di sistema che è schiacciata sulle nostre discipline e anche forse vediamo che in altri paesi come l'autovalutazione ha un peso molto più importante nell'attività quotidiana in classe quindi questo è una cosa che rimane un po' più fino e abbiamo notato come dicevo anticipato a Mario la prima che le attività per le lingue non hanno creato interferenze di tipo linguistico non hanno creato difficoltà e quindi questa è una cosa che ci hanno del piacere e ci stimolerà il lavoramento insieme i prossimi anni un'altra sua osservazione è che la motivazione ha avuto un ruolo importante in questa attività infatti riassumendo forse le motivazioni scusa il vestigio per cui la motivazione è stata insomma è separata molto alta e è perché abbiamo creato un contesto autentico in cui in qualche modo esaltasse l'utilità del lavoro che veniva svolto e il fatto che comunque si richiedesse di risolvere in qualche modo un problema quindi di avere un budget dei paletti ma di portare ad un compito in modo realistico e abbiamo creato anche un setting alternativo e questo ho aiutato e nello stesso che a qualche uso massiccio delle tecnologie in qualche modo ci è servito ad essere un altro elemento che ha stimolato la motivazione dei ragazzi ma soprattutto quello che ci ha più stupiti o forse ci ha più interessato è che sono stati processi di autovalutazione dei processi dietro di valutazione quindi di valutazione che ha stimolato ancora di più il senso di responsabilità dei ragazzi e quindi voglia di fare voglia di impegnarsi voglia di partecipare e invece poi siamo riusciti quindi dopo queste osservazioni anche a fare alcune riflessioni più specifiche e cioè in centri lingue ci siamo chiesti se ad esempio abbiamo forse fatto abbiamo abbandonato un po' troppo velocemente il portfoglio linguistico che fino a qualche anno fa era molto riporto a libri di testo e che a un tratto tutto un tratto si sono stati ritmi quindi abbiamo pensato che forse abbiamo abbandonato troppo facilmente questo strumento che era una sorta di raccolta dei progressi degli sicili ragazzi e e forse ci siamo chiesti anche se non abbiamo dato troppo per scontato il quadro rompia delle lingue che è il nostro nostro faro non dovrebbe essere il nostro faro e che forse invece abbiamo avuto troppo dato per scontato e abbiamo un pochettino forse sottovalutato il porto che poteva dare la costruzione del curriculum e dei trascetti di lavoro quindi forse dovrebbe essere indagato un pochettino più utilizzato più 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 quotidianamente e un'altra questione importante che questa si fa che ha il lavoro del nostro gruppo quindi come gruppo disciplinare di lingue che si è secondaria e secondaria comunitare è che la possibilità di un intreccio tra l'iversa lingua è un'esigenza che abbiamo in qualche modo sentito in questi ultimi due anni ma che forse non siamo riusciti a ascoltare o a riproporre a pieno a meno quanto avremmo dovuto e quindi vorremmo fare un po' in questa direzione ma non come avremmo pensato forse prima cercando di armonizzare il il curricolo ma come quindi in termini di conoscenza in termini di contenuti in termini di campi semantici eccetera ma più che altro cercando di intrecciare strategie metalinguistiche comune quindi non la famiglia fare sia la famiglia in inglese sia in spagnola sia in francese ma l'utilizzo l'edizionario la navigazione la ricerca di informazioni online questo secondo me è un spunto importante ci ha fatto fare un passo avanti in qualche modo quindi sicuramente è una cosa su cui dovremmo riflettere ancora e presi da tante cose e forse non si è ancora riuscita abbastanza ma sicuramente è una cosa che se avremmo l'opportunità vorremmo alcuni in futuro e come ultima cosa quindi abbiamo pensato anche a possibili ricadute dell'esperienza sul curriculum e quindi come in particolare per sviluppare competenze anche di tipo logico organizzative tipiche tele-digitale quindi abbiamo pensato alla ricerca di informazioni online di prodotti multimediali digitali quindi questo forse è quello che abbiamo imparato anche noi insegnanti dal lavorare insieme dal costruire poi un metodo di lavoro una strategia di un'esercizata quindi soprattutto ricordo che una cosa che forse ci potrebbe aiutare in questo senso è il famoso CLIL di cui forse parliamo tanto ci troviamo sempre con i colleghi inoltre cerchiamo vediamo qualcosa di storia di musica riesce sempre a fare questa parola magica quindi pensiamo che questa sia una metodologia che ci possa fare avanti da questo punto grazie in fondo perché poi vedremo dall'analisi dei filmati che abbiamo portato quanto sia importante il tipo di competenza che abbiamo scelto quanto sia importante lavorare con l'altro e quanto sia importante l'altro soprattutto e la competenza scelta come avete letto è sviluppare la relazione con l'altro attraverso il corpo sapete tutti quanti abbastanza bene scienze motorie fa parte faceva parte del laboratorio espressivo chiamiamola ex laboratorio espressivo o romani insieme a italiano arte e immagini e musica sono tanti anni che questa parte del del curriculum è in atto e negli anni passati il laboratorio espressivo si concludeva con una performance delle classi terze quando abbiamo introdotto la teatralità diciamo che il laboratorio espressivo è entrato a pieno titolo in maniera completa nel curriculum di tutte le classi prima era legato la parte corporea era legata di più alla presenza di un tecnico più o meno di una presenza più o meno tecnica in quella classe invece con l'ingresso che c'è la teatralità nel curriculum delle tre classi c'è la parte corporea allora perché avevo scelto di di analizzare la competenza diciamo sui contatti facciamo vedere il risultato possibile la meta sono due piccoli spettacoli ovviamente dei pezzi di spettacolo della terra da dove si può arrivare il percorso che poi abbiamo cercato di analizzare in un piccolissimo frammento si conclude teoricamente in questo modo con l'acqua Il tema del laboratorio dell'anno scorso era lì per libertà e non libertà, la classe che vedete dalla terza B l'aveva affrontato secondo i sottotitoli liberi di libertà e tutte le improvizzazioni vertevano sul tema quanto sono libero personalmente di fare quello che voglio o quanto sono libero personalmente di essere quello che voglio. In questo pezzo avete visto che lei è manipolata, lei fa delle cose che le fanno fare gli altri e a poco a poco però prende sopravvento sugli altri ed è lei che fa e fa fare gli altri anche se non li tocca fare gli altri delle cose. Allora, adesso c'è un altro pezzettino, in questo caso è un ragazzo. Io proprio in balia di queste sei stricte. Grazie. 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 Grazie, Onyhallah. Facили di lasciarsi avvicinare ed avvicinare gli altri. La capacità di contatto fisico che sottende la consapevolezza del corpo proprio e della realtà fisica e del corpo degli altri. La capacità di realizzare contatti significativi. Questa è la parte più complessa. Questa è la didattica in maniera più schematica con i criteri ed ierti. il livello di vaso, il livello intermedio e quello atteso e il livello elevato cosa abbiamo fatto? abbiamo inizialmente pensato di compilare una griglia di osservazione di queste quattro lezioni poi abbiamo verificato che come qualche altro già diceva è difficile compilare una griglia mentre succedono le cose si perdono tantissime sfumature tantissime particolarità allora abbiamo pensato di far compilare la griglia a un osservatore esterno ma l'osservatore esterno non era conscio non era conoscenza del percorso che stava succedendo perché non conoscevano le persone ci siamo affidati alle riprese video le riprese video poi abbiamo analizzato le riprese video e abbiamo scoperto che anche usare le riprese video è un problema perché chi fa il video deve sapere cosa deve andare a analizzare noi abbiamo operato le immagini che avevamo con fatica con fatica per questo abbiamo deciso di focalizzare la nostra attenzione su soltanto quattro ragazzi anche per la comodità perché dopo di che comparevano di più nelle riprese semplicemente e si potevano assiduire dunque le quattro lezioni prevedevano tre lezioni di esercitazione questo percorso è un percorso che fanno tutte le terze proprio così com'è la prima lezione la prima lezione la prima esperienza i colleghi Claudio e Federica hanno usato l'esperienza di cosmogonia che è la la lezione di Fabri l'incontro di partenza del laboratorio espressivo sugli opposti e abbiamo osservato l'interazione tra lo spazio personale e lo spazio politico proprio il mio come gestisco il mio spazio rispetto allo spazio degli altri senza parlare di contatti semplicemente a livello spaziale dopodiché nella seconda esercitazione si passava a un incontro un pochino più più ravvicinato ma molto semplice prima il contatto con una parte del corpo poi il contatto con più parti del corpo con parti diverse del corpo semplicemente darsi la mano a quello che sarebbe venuto poi dopo la terza esercitazione si noi la chiamiamo i vuoti i piedi nella terza esercitazione l'argomento è la condivisione dello spazio del proprio spazio con lo spazio autunno cioè consento all'altro di entrare nello spazio personale e io modifico entro nello spazio entro nello spazio non lo so entrato nello spazio il quarto il più impegnativo gradino è basato sul il contatto corpore inteso come rapporto di fiducia do il peso il peso del mio corpo al mio compagno che accetta quello dell'altro che vuole dire avere grande consapevolezza del proprio corpo delle proprie parti del corpo del proprio spazio personale e dell'altro vuol dire che devo sapere proprio il suo dono di quello che sto facendo perché non posso permettermi di invadere lo spazio di una persona o il corpo di una persona che vuole essere in un vaso e io questo lo sento dalla disponibilità dalla morbidità dagli spigoli che all'altro e contemporaneamente accettare quello che l'altro pensa di poter fare con il mio corpo questo procedetto la registrazione video segue il lavoro della terza B solo solo 4 solo 4 alunni abbiamo seguito e basta e possiamo vedere e poi abbiamo analizzato il lavoro dei 4 ragazzi e l'abbiamo cercato di metterli nella tabella Paolo Marcello ce ne è grazie e Simona in realtà più che una valutazione su livelli raggiunti perché già vi ho detto che è un percorso molto lungo un percorso che si sta facendo ancora adesso è un percorso che viene dalla prima media abbiamo abbiamo visto come le persone transitano da un livello all'altro e ancora stanno transitando perché ad esempio Simona che vedrete che quella che partiva dal livello più basso si sta lentamente spostando verso un livello intermedio e ancora l'altro giorno ci dimostrava come stesse ancora andando verso un altro livello si se c'è tempo guardiamo i filmati di tutti e quattro 10 minuti è più o meno siamo su quattro d'ora stiamo sedendo ragazzino con la maglia verde giusto Paolo Paolo vaga non è quasi mai se non casualmente è vicino con un altro sta lì nel mezzo né fuori sta lì la consegna era cerca di vicinare qualcuno no questa esercitazione no la consegna non è andata non è mai quella questo è il lavoro sulla nascita del cosmo loro sono delle particelle e sono delle sono delle e non che sono degli anni che possono vivere vita autonoma vivono vita autonoma e poi a un certo punto come un diverso d'asce anche loro si aggregano insieme agli altri e diventano un unico che poi esclone e riproduce altri nuclei singoli paolo quello vedete qui siamo passati al accetto con gli altri non c'è un altro fisico attenzionale lui sopra è Marcello la torre cremo anche dopo Marcello è sempre disponibile lui non è lui è disponibile ma è la data il dorso ai compagni non ha la pancia è la parte molto intima è più delicata la pancia la parte davanti la parte più forte e sta non si rifiuta tiene Marcello è facile da accertare perché leggero Michele un po' meno tutto questo lavoro chiaramente la difficoltà vostra ma anche nostra è quella di capire che cosa dobbiamo guardare per capire per dare una valutazione di un percorso perché è molto semplice l'espressione di Paolo sicuramente è una espressione di accettazione del peso di Michele ma non lo è anche dal punto di vista corporeo se guardate lui ha la schiena al di là che mi piace è una posizione difficile per Paolo perché il peso di Paolo il peso di Michele si sta facendo male però lui è una posizione molto chiusa adesso l'immagine la modelletta e poi si chiude sempre di questo che cosa abbiamo visto questi seminari facendo il confronto con altri capirete meglio il nostro percorso adesso è già difficile anche per noi è stato difficile leggere questa chiavetta però vorrei fare un'altra soprattutto per analizzare la competenza per non scadere nello psicoanalitico spinto che non ci interessa non ci compete assolutamente mai questo è il terzo momento che ha detto Silvia incomincio a accettare il peso del corpo degli altri incomincio in questo rapporto di fiducia il corpo dell'altro viene verso il mio e il mio va verso il corpo dell'altro quindi vedete sullo sfondo altri ragazzi che affidano il proprio corpo la propria dimensione del cuore del peso al compagno quindi trovi lì il ragazzo con Maria Verde in questo senso Paolo ha fatto il trasporto di Marcello e noi cosa abbiamo guardato è vero che propone continuamente fermo un secondo questo è il quarto la quarta lezione cioè quello che diceva se realizza una sequenza con contatti rappresentativi non proprio che cosa abbiamo chiesto in quella lezione c'è un incontro tra due persone in questo incontro devono avvenire dei contatti e delle situazioni di fiducia in cui uno dà fiducia all'altro per essere trasportato in parte questo era il compito a filadoni i droni che raccompagno che lavorano con Paolo e la seconda di lui se non propone mai questi non sono questi però dica adesso senza pari anche bene 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 ma c'è l'abbiamo visto sbagliarsi sulla schiena di paolo marcella molto disponibile e se vi ricordate le frecce di marcello che aveva già un livello intermedio marcella aderisce molto bene alla schiena del compagno apparentemente senza difficoltà questo è il primissimo gradino sì quello che abbiamo imparato è che se vogliamo utilizzare le prese con materiale bisogna avere una grigia bisogna che mi dite esattamente quello che vuole bisogna che noi sappiamo noi sappiamo noi sappiamo noi sappiamo quello che avevamo questo sicuro questo è l'arcello però non te l'abbiamo comunicato e per cui funzionano e non funzionano è stato un lavoro tremendo estrapolare questi pochi minuti da tutti quegli lavori che tu hai fatto perché io non ho rivisto consecutivamente io ho passato sette ore e mezza mentre non ci faccio in realtà segui molto il percorso delle ragazze adesso qui non c'è mai il percorso io ho seguito tutto riesci a vedere tante cose ragazze questo è in pieni a cuochi accetto nel mio spazio personale guarda in accello con me se il signore dappertutto sta volentieri a contatto con l'altro questo di spalle di culo è sempre Paolo guardate Paolo il contatto successivo che guarda lui mi mette i gomi di Paolo addosso cioè il minimo senza cavi non so che è sempre il bene di trovare le figlie amiche come hai detto è sempre il bene di trovare l' bordi Paolo si alza e va a trovare il benissimo ma fai cacciare di condizione usano due braccia e anche per tenere le stanze si, lì è come una ragazza c'è Simone anche poi vedremo dopo questa è la performance degli incontri di Marcello sicuramente per qualcuno la motivazione del lavoro con un compagno di un altro sesso è grande ed è proficua sì, è interessante perché lei si è adattata adesso non lo stavamo portando però lei, come dicevamo prima lei si è adattata Simone è la luna che va da un livello più basso questo è la cartezza proprio di soli ve lo facciamo ripetere accetta poi il terapieto proprio dell'arte no, questo è uno spazio personale accetta possibilità che vuole in realtà è Marcello si muove e ha messo la mano sulla spalla e ci hanno camminato insieme adesso voi riuscire qui Simone viene presa per mano viene abbracciata dall'altra lei ha solo una mano e l'altra le dirà adesso ti metti la mano anche tu qua dai guarda, vai lei mi mette la mano già tutta no, ci hanno fatto ubbificata i polpastrelli sicuro incontrate con me vedete il polpastrello vai Grazie a tutti. A cercare di condividere il proprio spazio, a cercare di contatto fisico con gli altri, anche in maniera molto formale. Grazie. Grazie a tutti. 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 una modalità che era proprio tipica ai 2000 anni, tanto per qualche modo il fatto dei grandi che insegnano ai piccoli, quindi abbiamo scelto due classi e all'interno delle due classi abbiamo cercato di individuare dei ragazzi che potessero mettere in luce questa competenza, cioè trasmettere una modalità di lavoro finalizzata al miglioramento del metodo di spendo e monitorare i processi di applicazione. Adesso poi Mario vi dirà che questo lavoro viene da lontano perché già si applica a dei testi che a loro volta sono stati oggetto, diciamo, di una sperimentazione sulla comprensione. Però la sfida di questa volta era quella di far sì che dei ragazzi di terza potessero spiegare a dei ragazzi di prima che cosa dovevano fare, come erano strutturati questi testi e qual'era il lavoro che dovevano farci sottra. I ragazzi erano sei di terza D e sei barra sette perché c'era anche una disabile legata a una B che diventavano sette e terza B e terza D. Quindi solo sei. Abbiamo scelto tra quelli che si erano proposti cercando di fare gruppi molto eterogenei. Abbiamo scelto un paio di ragazzi che garantissero in qualche modo tra virgolette lo svolgersi positivo dell'esperienza, dei ragazzi intermedi e altri con problemi proprio addirittura con PSA o di comportamento, di disattenzione. Quindi era un po' una scommessa a vedere come si sarebbero comportati, messi di fronte a un compito proprio di docenti. Quindi abbiamo passato un po' di tempo a cercare prima di allenarli al compito. Quindi per un po' di tempo abbiamo estratto dalle classiche, un po' di tempo significa un'ora o due, ricavate poi l'anno, non pensate grandi cose. Però i ragazzi hanno mostrato, c'era anche Gibelli che ha sempre collaborato, c'era Simone, abbiamo cercato di far capire loro qual era l'obiettivo e di condolgerli quindi in questa parte da decenni. Abbiamo cercato di ricordare loro che erano stati proprio loro stessi oggetto di quel tentativo di ricostruzione dei testi. Ora lo vedremo un po' se più in particolare. Quindi loro sono entrati in questa ordica, hanno ripreso in mano quei testi che loro stessi avevano cercato, su cui avevano cercato di lavorare e si apre pure il testo 1, torna indietro, e hanno cercato di pensare a come avrebbero potuto fare per spiegare al meglio quei due loro compagni di prima. Quindi le due prime in cui siamo intervenuti poi sono state la prima C e la prima N. però questi testi, semplicemente un tempo di riconoscere, erano testi che il gruppo d'italiano aveva suddisposto già nelle classi che sono stati fatti, eseguiti, è stata un'attività fatta dai ragazzi in seconda e già l'anno scorso avevamo detto che poi l'avrebbero portata una volta in terza, l'avrebbero presentata ai ragazzi delle prime perché in realtà erano destinati alle prime. Sono testi di storia tratti dal manuale, dal testo in adozione che è un romano di storia e il lavoro consisteva, tanto perché possiamo capire, nella divisione in sequenze perché è finalizzato a comprendere la struttura del testo e quindi alla capacità di studio. Quindi si trattava di dividere in sequenze, quindi capire che cos'è una sequenza, capire che cos'è un capoverso e che cos'è una sequenza e poi introdurre, dare un titolo a ciascuna sequenza, i titoli erano dati ma in disordine e poi dare un titolo al testo. Il secondo esercizio che era simile al primo, un pochino più difficile e l'abbiamo dato in due volte diverso, una volta in due ore prima e dopo una settimana l'altra. Questa volta il testo era volutamente senza capoversi e loro dovevano individuare le sequenze di cui non era stato dato il titolo, se scendi giusto posso capire, ma era stato dato soltanto il tipo di sequenza, cioè c'era prima la definizione, la situazione, la situazione, il problema, la soluzione, la seconda soluzione, la differenza soluzione, quindi loro dovevano individuare e questo non c'era davvero il titolo al testo. Questo è l'altro libro, basta, e anche qui dare il titolo, quindi può essere un pochino più difficile, motivare perché avevano dato quel titolo, eccetera. Abbiamo fatto poi una linea di osservazione, che è quella che vedete, perché dei quattro alunni delle terze, dei sei alunni delle terze, quattro erano somministratori, quindi avevano il compito di spiegare e di seguire il lavoro, l'attività del lavoro, due erano di osservatori, quindi devono essere messi a tanto, chiaramente non parlare, non intervenire, anche se vedremo che le cose andranno un po' diversamente, e abbiamo fatto una griglia, non abbiamo fatto una griglia noi di osservazione, questo forse avremmo potuto farlo, e invece abbiamo fatto, alla fine di ogni incontro, anche noi, alla fine di ogni attività, un incontro tra di noi, per vedere, con i ragazzi, per vedere cosa è andato bene, e anche per autovalutare il suo blog. Sì, tutto sommato rispetto a tutte le altre cose che abbiamo visto, adesso siamo ultimi, per cui abbiamo anche un po' l'idea del percorso di attività, no? Ci sono differenze tra diversi gruppi, qui forse ragazzi, lo vedrete nei brevi tratti di filmato, sono più consapevoli, cioè hanno fatto parte, anche loro, con noi, forse di più, proprio perché sono diventati docenti, hanno fatto parte del gruppo anche critico, non nei confronti dell'attività, c'è stato questo passaggio per l'ora, almeno così adesso mi è falso. Forse è più facile vedere il video e poi discutere su singoli passaggi. Ah, va bene, vediamo solo le competenze, anche se possono essere... Ecco, le competenze, cosa abbiamo valutato, dimensioni, perché questi sono i titoli, mi passa poi a ora, prima lei, sta per presentare scopi, fase, procedure della modalità di lavoro, conoscere le procedure e gli scopi della modalità di lavoro, ve lo dicevo, come si fa, e cosa serve, vedrete che lo spiegheranno, cercheranno di spiegare ai ragazzi di prima, che chiedono, ma perché venite qua? Voi, voi sei anche se sei insegnanti, anche. Quindi, allora poi hanno cercato di far capire, insomma, le motivazioni, monitorare come viene svolto il lavoro, quindi prima dovevano conoscere bene, spesso, le attività proposte, dovevano saper capire i bisogni dei bambini di prima, cioè fare un lavoro proprio da docenti, e poi mantenere naturalmente un articolamento consono. La parte più difficile era quella delle correzioni, perché... No? Sì, la correzione... Sì, la verità. Sì, saper riconoscere i segni esiti dell'esercitazione, non solo per finire le consegne, saper rilevare costanti dei punti critici e emergenti, saper formulare un giudizio globale delle prestazioni, ma questa qui poi era l'andria che avevamo fatto all'inizio, in realtà poi abbiamo deciso di correggere lì con loro subito, non correggere da soli. Quindi c'è stata un po' questa attenzione che loro hanno imparato gradualmente, da una volta all'altra, di non intervenire dicendo è giusto o sbagliato, ma di chiedere cosa hai fatto, dove si è arrivato, perché hai fatto questo, perché è una cosa che abbiamo cercato di insegnare loro, di dire, perché dovete dire no, perché li stive a dire no, mi sono sbagliato, invece a poco a poco, perché hanno fatto fatica, perché facciamo fatica, e no, perché a me è divertito, no? Sì, giusto. Invece dire, perché hai fatto così, c'è un ragazzo che a un certo punto lo vedrete e dice capisco come hai ragionato. C'è sempre un passato. Perché è stato un passato. Sì, è sbagliato, però capisco come hai ragionato. No, questo lo vediamo dopo. Vediamo. In scena, vediamo in un video. Mi si chiama Piero. Piero. Ecco, scopriamo. No, fermo un'altra. Nel primo vedrete, diciamo che se per questo cosa vorrei vedere, vedete un ragazzo, i ragazzi che spiegano l'attività, e lo vedete che cercano di spiegare in modo diverso una stessa cosa che non era chiara, allora non lo cerca, in due si avvicinano. E poi il lavoro degli osservatori che accanto... Sì. volume. Audio. Audio. No, no, lì. Non è collegato. Fermati un attimo. Ok, i bicchieri. Ok, i bicchieri. non è là. Dove. Aiuto. Se troppo alto. Giusti. Potesse. Allora. Bello, bello. Bello, bello. Bello, bello. Bello, bello. Grazie a tutti. Noi eravamo, diciamo, di quattro capoversi messi in disordine, ovviamente le spessive, diciamo, le spessive, le spessive disordine. Adesso vedete in me l'andre, e lo vieni qui, diciamo, il testo, e poi, diciamo, di me, cioè, in me l'ambito del fatto del freddo, in me l'ambito della mia figlia, adesso va a dire, perché il tre, ma che mi prima di andare diventando tutto, con un altro video, un po' di cose che stiamo si tratti, in base pari, un milione Roma. Sì, ma, se las, me la hai, mischietati, sono la mia figlia. Adesso mi hanno? Si può trasmettare la tua mente? Si può trasmettare il tuo mondo, il tuo mondo è un'altra. Se ci sono un'altra. Se ci sono delle due le due... Si fa il numero di queste, che facciano tutti i vostri poltini. Quindi, tu ti fai un numero su. Le sequenze, che si sono diverse, e tu devi numerarle. La prima sequenza, cioè, c'è la tua parte in mente e il tuo giusto. Questa è la seconda piccola sequenza, è il lavoro individuale, in dove sono stati, qui ci trovate la mamma da Simona, che per l'ora del lavoro individuale ha saputo usare il meglio, e le messaggi di quando sono passati a realizzare. Non hanno spiegato l'ora, non è sequenza, non è capovarso, non è tanto, non è semplice. Grazie. 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 No, 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 no. 3, 6, 3, 4, 5, 6, 8 e 1, 2, 3, 4. Insomma, quindi l'esercito mondo, il 4 del 10% e questo è tutto piano, sono cittadini, scuri dei motori, dove i fattori, dove, dove, a pesare poi. Però sicuramente possiamo vedere il 4 e il 5 del 4 del 5. 2, 4, 5, 6, 8 e 1, 2, 3, 6, 8 e 1, 2, 3, 6, 8 e 1, 2, 3, 7, 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 8. Stanno correggendo, vedete che c'è lo schermo acceso in classe e quindi sono andati sulla piattaforma dove ci sono in destra le correzioni e con l'aiuto quindi dello schermo stavano correggendo. Ora la correzione in questa classe, vedrete nell'altra, non so se c'è ma comunque in questa classe, è molto caotica, vedete, perché io faccio così, già è molto complesso in ogni caso, lì è stato, era un libro difficile per loro. Stanno discutendo sui, l'ho portato a confronto di titoli, di titoli da dare al grano, no? E lui sta dicendo, ci deve essere il titolo che, il quando, dove, c'era, c'era che cosa. Perché poi, vabbè. Invece adesso qui vedremo, sempre di domani, un buon intervento suo in cui spiega i motivi per cui sono stati proposti queste cose. quale in questo momento, vabbiamo che la scuola stiamo in attività. Una roba a provare delle aziende che ci sono pronti a parlare alla scuola e a provare di studiare perché non userebbe studiare perché ha una pratica di parlarsi con questa anima, ma a proposti, ma a tutti, ma a prepara perché tipo, o fare un postine, o fare un postino, non vale un libro, fare le sequenze e poi provare di essere quelle a capire nei problemati dei principali e a lavorare da lui perché, a provare di vedere con un metodo in un non raffgruppe. qui invece è una riflessione che c'è stata dopo l'attività che è stato mostrato, quindi riflettiamo su come erano date il cuore e se non si hanno interagito loro e siamo criticati Sì, mi chiedevo sempre le stesse cose, sempre lo stesso, cinque, sei volte di non cominciare a dire no, quindi come perciò le due sei volte non c'è qualche tempo, non c'è qualche tempo, fino a seguire noi non c'è qualche tempo, non c'è qualche tempo non c'è qualche tempo, non c'è qualche tempo prenderci in giro, io sono la stessa persona noi c'è l'idea, inizialmente lo stavo, appunto, inizialmente a me mi è perpassata, ma questa casa serviva mentre poi l'abbiamo tornata, me l'ha spiegato adesso ah, magari... e se ti ho dato l'inizio no, sì, perché poi ce l'hanno condiviso non ci sono riuscite a cercare ma l'altra cosa ha molto servato è che se magari la seconda stessa mi sembra un po' più semplice, poi l'hai fatta non c'è un po' più semplice questo invece, come sempre, di nuovo l'impressione dell'altra casa in cui c'era questo ragazzo veramente con difficoltà di concentrazione a cui Camillo chiede come ti sei sentito e lui... ma... insomma... ma la tua esperienza non è stata non è stata non è stata non è stata quello che disturba invece qui è quello che una volta che ha chiaro il suo compito lo svolge quindi... è un caso che ci ha permesso poi di... di riflettere molto anche su... le dinamiche le relazioni e... certi elementi di comportamento che mi instiano di... così... fissarsi sclerodizzarsi e... non mi ero tanto sentivi costretto con la situazione? no... no... poi... lì sono... osservatore ah... effettivo si... poi... alcune volte c'era un... un... gli altri impegnati che... le risposte bisognava fare un forno totale però... comunque... è un forno totale cioè... io... io... rispetto alla tua... difficoltà di concentrazione ad esempio che hai a volte in classe come... ti sentivi in quella situazione? ti rendi più semplice? o... non lo so... ah... allora proprio ti sentiti in quella situazione? intiamo dire... cioè... come... dopo me ne sono in classe allora ci sono i nostri libri sono andati a costare molto come luce di questo video tutto il mio... e... oh sì... da compito Marco a questo mondo sul senso è... è un'altra cosa per via c'è... perché soprattutto questo punto che... cioè... ci è... sì... sì... ma no... ho detto... ho detto... ho detto se... ho detto se... questo lavoro e... Questo è una cosa che abbiamo messo, perché a un certo punto non era previsto questa attività, perché non era previsto che i ragazzi facessero l'esercizio, ma non che poi facessero la prova di avere compreso e quindi di esporre come se l'avessero studiare. Però poi Camilo è intervenuto con una bambina a proporre questo esercizio e l'abbiamo voluto riportare per far capire che la situazione lì nella classe non è stata molto rigida, cioè non è che noi eravamo solo spettatori, ma quando a un certo punto abbiamo capito che poteva essere il caso necessario entrare per aggiungere una cosa o per corregge una cosa, l'abbiamo fatta, cioè in modo che fosse una situazione di laboratorio, di attività laboratoriale, non così di osservazione e poi solo dopo di riflessione, la riflessione non si poteva fare niente, quindi questo è un pezzo che succede alla ragazza che riesce davvero a rielaborare il testo. Non è un'operazione, sì il mio cammino non lo farò più troppo per il mio, però lei davvero riesce, è un testo che ha letto una volta sola, su cui ha fatto un lavoro, però non è così ovvio, ci riesca così bene. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 domenico. Adesso. Sennessimo. Ressimo. Ripetere l'esperienza. L'esperienza. Siamo molto meglio. Allora, spazi inabiguati, come ho visto soprattutto la prima volta che eravamo troppi in poco spazio e sarebbe stato necessario poter muoversi più, magari piccoli gruppi muoversi tra i banchi. La difficoltà ad adeguarsi alle diverse reazioni delle classi, questo ve l'ho detto già. Un po' l'antiliciosità della situazione, questo l'abbiamo visto perché loro si sentivano un po' osservati da noi adulti, sapevano di essere osservati, mentre io so bene, lo sapete anche voi, che in classi, in situazioni in cui l'uno insegna l'altro, perché veramente c'è un prima volta, quindi è più possibile ricreare delle situazioni piccole, reali, frantumate. Scarsa attenzione a prevedere le rinforzi e le spiegazioni, questo ve l'ho detto. Un po' eccessiva esperibilità nei ruoli, perché uno faceva l'osservatore e non interveniva, oppure suggeriva l'altro, ecco perché siamo più intervenuti per dire, no, non volete intervenire, a questo punto scantiniamo pure i ruoli, ma l'obiettivo è arrivare al risultato. Prevalitazione un po' degli elementi più sicuri, che è successo soprattutto nella D, dove c'era Giovanni, che era molto sicuro e quindi gli altri sono stati un po' più silenzio. Diseguale capacità di improvvisare le risposte non preventivate, qualcuno è stato più pronto, qualcuno altro no. I ragazzi hanno fatto l'osservazione e la scheda, però hanno anche fatto un'osservazione libera a qualcuno ha preferito scrivere e loro hanno rivolto molto l'osservazione sui allunni, perché a loro non gli pareva vero che erano loro che dovrebbero essere valutati, perché infatti si sono stupiti quando abbiamo detto che erano oggetti di valutazione, perché loro pensavano che dovessero valutare quelli di prima, non loro. Ma glielo avete detto in fondo o super? No, 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 no sì, nelle diverse circostanze l'utilizzo di strumenti di osservazione più o meno strutturati e in questo caso noi abbiamo premesso il lavoro nelle modalità e questo ci ha salvato perché i ragazzi incaricati di osservare avrebbero preferito l'osservazione filiera ma quando l'hanno fatta non porta più alla reazione della classe prima che ai propri compagni e mentre poi lo vedo compilare la scheda preparata hanno centrato il loro obiettivo quindi in questo caso è stato utile avere a disposizione entrambe le cose, così da un lato non siamo usciti di tanto e dall'altro ma siamo emersi degli aspetti in più che comunque hanno richiesto l'esperienza sì, l'unica cosa è che questo si creano competenze in questo aspetto perché riprende l'intervento di matematica delle nove stavanti perché secondo me c'è una domanda importante la questione della scala a noi è parso magari però non abbiamo una controprovo per cui può essere una nostra via illusione però ci è parso che alcune competenze fossero radicate perché poi in classe nei mesi successivi questo l'abbiamo fatto in febbraio più o meno questo lavoro rispuntava questa consapevolezza questa padronanza e c'è il passo di poter addirittura scrivere questo che però non ho visto visto che può essere adammizzata da due anni da sentire nominare su questo grazie a dirà però io personalmente tutti estremato come voi penso che ci sia una una tale ricchezza di cose che valga la pena concederci un minimo di spazio e soprattutto oltre a chiarimenti rispetto a queste unità così interessanti che ci sono state oggi davvero non l'ho per la sua formalità già lo sapevo perché le avevo viste però messe insieme fanno effetto ecco ma oltre a questa messa a punto eventuale domande quant'altro sulle singole esperienze un minimo di tre quattro punti non possiamo non raccoglierli per dire non questa esperienza non può non condizionare il nostro lavoro è realmente pesante in senso positivo che sappiamo che le vicende così travagliate perché siamo di minuti di minuti ancora in attesa ci hanno fatto procrastinare la riprogettazione dei nostri prossimi anni di lavoro almeno utilizziamo perché c'è un piccolo spazio per darci un calendario di problemi non sia ma non credo di problemi quindi allora c'è un po' di spazio se vogliamo fare domande o esprimere osservazioni e poi io proporrei tre cose di conclusione che vi rimando e sulle quali discutere se non sbaglio ci sono c'è l'inna sì io ho curiosità come lo poto mandare ieri la mia rispetta rispetto a questo posso rispondere anche io se non non voglio rispondere perché le ho fatte tutte anche quelle dopo sì ma una scelta di cose che devi muovere in modo diverso che ti devi muovere ecco queste cose qui della relazione del modo con cui avviene la relazione mi sembra che le abbiano colte proprio e anche di come devi intervenire per correggere una persona che non puoi dirgli non serve così dirgli no è sbagliato mi sembra che le abbiano colte certo poi loro il disturbo l'hanno visto come il disturbo cioè loro avrebbero voluto che qualcuno glielo eliminasse ecco cioè è più difficile capire la cosa se non c'era conoscenza questo quel che dicevo comunque trasportare anche se tu ragazzino di 13 anni hai capito questa cosa non è che puoi trasportarla automaticamente come competenza così appunta nel resto della tua vita per sempre secondo me dopo un'ora sei pronta a fare un scemo un padre cioè momento non illudiamoci che bastino sei ore di esperienza come non ci illudiamo che bastino tre anni e vi noto e sforzo e vero cioè sono tutte piccole crescite importanti sono le impressioni che formano ma non sono non ci sono ma che le magiche queste esperienze sono fatte prima dopo oggi si rinforza perché tanto i ragazzi che lavoravano prima prima perché poi quando sono le volte in classe con gli stessi che erano gli stessi che muovono sia in una classe che nell'asla o rischio veramente dei ragazzini altrui prima è successo è successo prima per esempio finisco questo discorso della biera perché lo condivido anche riferito a quello che la prima domanda che ha fatto la Barbie in cui ha detto da ora che hanno messo le cose sono in grado di valutare la funzione questo è un passaggio molto ecco e poi lo stesso tipo di ecco è una ritenuta di coscienza è una cosa molto alta quello che è un passaggio proprio qualitativo loro a questo punto sarebbero in grado di rifare lo stesso lavoro meglio penso ma di prendere coscienza i coloni mi sembra che sia un passaggio facciamo l'esempio dei barchi della mensa quando c'è il collegio docenti per un mesetto noi stessi no che pure dovremmo acquisiamo molta più attenzione perché ci abbiamo riflettuto su non ci dura per sempre perché quando lo facciamo a settembre non ci dura tutto l'anno e anche adesso è la stessa cosa le cose sono male molto più sono loro certo però è interessante non può dire non c'è una cosa sì non c'è una cosa che 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 diciamo sono difficili da far passare proprio ah certo 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 questo punto è stato santo avevo due domande rispetto alle presentazioni pure rispetto alla presentazione delle lingue mi chiedevo quando voi dite il discorso di valutarsi l'uno con l'altro e dite qual è il miglior viaggio beh che cosa vuol dire c'erano dei criteri rispetto a qual era il miglior viaggio perché il miglior viaggio per me non è il miglior viaggio per te abbiamo come dire ognuno ha il suo criterio a me l'hotel le cinque stelle con la cucina non necessariamente mi piace in una casa coloniale a Barcello a Buenos Aires mi piacerebbe molto quindi ognuno poi ha delle tutte diverse quindi mi chiedevo il buon viaggio che cosa che cosa significava faccio l'altra domanda riguarda i gruppi che hanno lavorato su un gruppo limitato di studenti o hanno lavorato ad esempio sulla classe sola mi ha abbastanza colpito nel senso che mi chiedo lavorare sulla terza A sul processo a Cavour è la stessa cosa che lavorare in terza C classe nella quale lavoro e Mermans domanda che la situazione di contorno non è E la situazione della classe sulla quale lavori non è irrelevante mi chiedo in fondo in fondo detto quello che si dice della terza A che è questa super classe mi viene da dire vabbè ma voglio dire che si propone qualcosa è ovvio che questi reagiscono piuttosto positivamente la terza C che è una classe sulla quale invece si ha più difficoltà a far reagire eccetera sarebbe un'attività di questo genere avrete smosso invece qualche cosa perché effettivamente rispetto a ciò che gli si propone è un'attività totalmente differente e chissà che non aver avuto una sorta di controllo effettivamente più che altro lascia delle domande che va benissimo nel senso che anche noi nel nostro gruppo abbiamo più domande delle risposte devo dire e forse è il bello di questo lavoro cioè è il bello della ricerca però è interessante dire queste cose così come l'aver lavorato su soltanto sei ragazzi piuttosto che quelli invece che altri sì gruppo eterogeneo però cosa vuol dire gruppo eterogeneo è difficile questo per quello che riguarda le domande invece una considerazione sul lavoro di oggi generale la sensazione che il fuoco che era quello sulla valutazione va a valutare sulle competenze va a valutare le competenze in parte il problema della valutazione se volete rimane e rimane tutto bene lì più consapevole più come dire con strumenti altri nuovi però mi viene da dire che tutti questi strumenti mi servono più o perlomeno nel caso del mio gruppo mi sono serviti più per costruire un percorso più proprio che utilizzarli per la valutazione non so se mi riesco a ripiegare più proprio che utilizzarli per la valutazione cioè rispetto alla valutazione rimango con un sacco di meglio che siano serviti per costruire ti fa sì però voglio dire noi abbiamo fatto all'inizio dell'anno di seminario su valutare le competenze abbiamo fatto abbiamo pensato le rubri come strumenti di valutazione eccetera mi viene da dire che rispetto a questo io Sara Oceghe rimango con rimango ancora con delle perplessità rispetto alla valutazione rispetto alle competenze la costruzione di percorsi più consapevoli la maggior capacità di guardare gli allumi eccetera su questo mi sembra di aver fatto voglio dire grandi passi da giganti però rispetto proprio alla valutazione ecco non mi sentirei di fare di dire la luce che è una figata non ci mettono nella Gesù se lo se lo vuoi 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 vediamo che anche Castori dice non è un problema risolto e c'è un punto interrogativo su questo c'è un punto interrogativo e dice anche ma non dite lo dica lui che la la difficoltà nel circoscrivere l'oggetto secondo me noi siamo ancora in questo stadio la circoscrizione dell'oggetto pensate nel terreno italiano per strada abbia messo tanta di quella roba ma l'oggetto poi scappava da tutte le parti se avessimo dovuto ritorare quindi è giusto che sia così penso che sia così ritornando invece alle esperienze volevo proporre anche una chiave un po' fra la parte del diavolo che mi è sempre toccata in questi anni rispetto all'esperienza di storia che ripeto è eccezionale come le altre faccio delle domande avete valutato quanto determinante sia stato l'effetto di avere fatto una messa in scena di tipo drammaturgico sostanzialmente a costruire a mettere in attivazione il problema quello è un senso buono voglio dire noi sappiamo che la cosa che si mette in apprendimento è una componente sempre di tipo teatrale ma lì è stata costruita proprio un atto unico con un copione molto molto forte si recitava sì certo c'erano delle improvvisazioni però la forte motivazione secondo me è molto determinata da quello e seconda domanda il target era l'obiettivo era imparare a documentare a scrivere testi argomentativi o a usare l'automontazione attraverso la documentazione georale provocazione è necessario mettere in campo tutte quelle energie soprattutto introdurre elementi di tipo rigoroso giuridico per esercitare sviluppare capacità argomentative che non va a sminuire l'esperienza perché l'esperienza mi paga mi paga poi anche se ci vede a farle domande chi se ne frega giusto però facciamocelo nel senso che nel senso che io credo molto a potenza dell'educazione attraverso il linguaggio dell'argomentazione nella mia esperienza mi sono sempre guardato da complicarne la vita quindi le argomentazioni che proponevano di una semplicità è proprio opposta a quella che è stata fatta dico questo è chiaro che è una provocazione che l'ho scritta a parlare la posso tentare allora bravo uno può rispondere e a sottolineare le cose che ha detto Sara tanto Sara mi ha rilassato la prima dove volete anche il canto no terza la prima cosa ah sì quella tra pari quindi sempre qualcuno ci risponde sulla valutazione tra pari perché mi ha colpito molto allora è verissimo e in altre occasioni è capitato a tutti noi di lettere per esempio di istruire i dibattiti semplicemente come riesco a personare mio padre e comprarmi una moto tipica argomentazione su tema semplice quindi non sempre anzi per niente c'è bisogno di istruire in fondo una baradana così complessa questa volta lo si è voluto fare per un cimento esagerato e forse per una sfida in più di tipo storico e poi l'idea era questa tante volte partendo dal manuale del D'Urusa molti di noi proprio sul suggerimento del lavoratorio del D'Urusa hanno fatto questa cosa olandese e mercante olandese e mercante inglese cosa ne pensate di questo sviluppo del 1600 parli dei colleghi di lettere che lavorano con il D'Urusa questa volta la sfida era sovradimensionata per davvero io dovessi dirvi come ho scritto nella scritto nella rubrica parla quattro ridimensionerei tutto certamente come modi di documenti come percorso tutto quanto però potrebbe valere la pena di essere un prodotto molto ridimensionato nel momento in cui si semplifica che si diminuisce la moglie di documenti senza non la toglia per un certo rigore è più replicabile certo replicabile ma non delle classi rispondono cioè questo triplice salto mortale ha una classe qualunque cioè delle quattro si era scelte la D e la A a buona ragione sarebbe stato un cimento a nostro parere preventivo soprattutto preventivo non sostenibile certo poteva essere bello vedere come buttava e poi dire ah avremmo avuto una triste conferma di alcune cose e poi avranno successo noi avevamo tarato per esempio su competenze diverse la CIG ha fatto una sua buona performance nel CINFO che potrebbe essere il massimo dal punto di vista delle discipline umanistiche e comunque io penso che di tutto quello che abbiamo ascoltato oggi e già lo pensavo avendo visto scritto la Commissione di Valutazione i percorsi a me quello che pare più giusto è quello che scelte ma perché non hanno mi corregano gli altri gruppi inventato nulla diverso aggiuntivo hanno analizzato un percorso che da molto tempo fanno con uno sguardo diverso chiedendo su una cosa che davvero non ha colpito tanto e che cosa dobbiamo guardare perché forse certe cose le avete guardate con un altro diverso con la prima volta con un'esplorazione in più ecco forse e qui rispondo la tua vero vero rispondo quindi alla tua domanda ma sono queste cose possono far parte di un curriculum se già sono dentro il curriculum e si tratta di andare dentro quello che facciamo perché poi potete sicuramente far entrare dentro il curriculum questa bella esperienza dell'aula voglio dire se si tratta di mettere invece su un terribile ma l'opo tosto come il processo al plurale non per capire se la posso salvare la mia io credo che il gruppo storia sul momento pensando a competenza lo sia riuscito a pensare io per prima niente che già facciamo e che potesse essere osservato quella è la strada che viene lo scopo chiedo chiedo domande invece sul confronto trappare perché è il mio risultato la prima domanda era rivolta al proprio lito quindi forse è risponde la stava ovviamente tu hai fatto una questione molto giusta è nata il fatto che non ho spiegato bene come è andato il confronto in realtà ne abbiamo chiesto a ragazzi di negoziare tra di loro i criteri che li avrebbero guidati dalla valutazione quindi non abbiamo fornito i criteri sono stati negoziati durante la quindi per questo che quella domanda era molto semplice ma in realtà non c'è stata una scusate i gruppi erano terogenei che ci vanno soffi noi lo sappiamo te lo assicuro sono le nostre classi figurati se non lo sappiamo te lo giuro e poi nella ricerca tu crei anche l'oggetto scegli un campione e quindi questa era una ricerca non era un percorso educativo tutto e lì anche il fatto che loro abbiano scelto una situazione intanto è cambiato però il punto di vista anche se la situazione era quella data vedi che mettendosi nell'ottica della ricerca è cambiato il punto di vista in quanto però alla risposta cioè tu pensavi seriamente che oggi potessimo dire cos'è la valutazione e cioè io dopo 30 anni 35 quanti sono ogni volta dico ho fatto un pezzetto e la cosa meravigliosa di questo mestiere è che continuamente e continuamente anni dopo anno scopri un sacco di cose per cui io e Mariù vedi che sull'orlo del baratro con Maria anche la stessa cosa però abbiamo scoperto delle cose abbiamo subito il fascino meraviglioso del capire che i ragazzi potevano fare questa cosa in modo diverso che noi avremmo potuto abbiamo fatto un piccolo percorso ma questo è importantissimo è questo l'unico modo il modo in cui si va avanti si procede nella scuola in realtà in terza abbiamo avuto un elemento di confronto perché sono stati fatti con altri ragazzi della stessa classe con altri che non erano avremmo subito tutto quel processo di anzi secondo me è stato peccato che non abbiamo avuto tempo è stato molto interessante vedere gli altri in un altro modo comunque l'unico c'era ma c'è in realtà non si è fatto c'era Paolo ma sempre su questa cosa no no perché sembra che parliamo sempre no no io volevo dire invece rispondere a Maria nel senso che a me sembra invece che sia giusto uscire un po' dalle nostre discipline perché in scienze motorie tu dici l'unica ma perché in scienze motorie è tutta fuori cioè nel senso che tutto il suo curriculum il suo curriculum è fuori della norma e quindi è chiaro che a questo scatto cioè non ha avuto difficoltà quindi mi sembra che invece tutte le scelte che sono state fatte sono state tutte molto legate alle discipline alle attività anche se un po' fuori e mi sembra creare un po' quel setting un po' differente come la commissione valutazione a cui bisogna fare i complimenti perché se siamo arrivati fino a qua e fare tutto questo percorso lo dobbiamo cioè il fatto che siamo stati tallonati passo passo esatto e quindi bisogna rendere merito a questo che è la prima volta che riusciamo ad arrivare così a me sembra tutto e anche il processo che è stato un pochettino però si inserisce comunque nei 150 anni nel risorgimento in una cosa che aveva una ragione d'essere in un anno come questo quindi anche matematica a me è piaciuto molto ma tutti quanti e anche inglese è un'attività molto molto legata alla loro disciplina ecco non vedo questa cosa di dire che siamo usciti solo una cosa perché è sempre in questo il fatto di prendere il fatto di rivolgere la comunità a un gruppo anziché a una classe o a una sola classe anziché alle classi paralleli è chiaro che è un elemento problematico perché è problematico nel senso di dire e gli altri cosa fanno nel frattempo ed è problematico più perché lui sia e lui no perché questa classe sia e l'altra no è vero però intanto c'è un discorso logistico per cui il lavoro può diventare molto oneroso e moltiplicarlo può non avere le risorse necessarie ma questa non è in realtà secondo me la risposta più significativa c'è da dire che nel caso soprattutto del gruppo e non della classe perché mi sembra dispensato sperimentare anche degli assetti diversi così come ha fatto il sostegno con la partecipazione e così come ha fatto le nostre interesse che in un contesto destrutturato rispetto alla classe ha permesso di emergere delle potenzialità che altrimenti rimangono più chiusi quindi è una possibilità che abbiamo sempre però non so se è un contesto si si no si 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 ma io così fissa un po' dall'esterno perché poi il mio uomo sapete insomma ormai il dirigente si occupa è costretto a occuparsi in modo molto discontinuo e sporadico della didattica perché siamo ormai immersi quasi in tutt'altra faccenda insomma che non quelle didattiche quindi ogni tanto spircio in modo telematico soprattutto devo dire che come dirige non so come facciano i dirigenti delle altre scuole ma la piattaforma mi aiuta enormemente a seguire diciamo i processi didattici e quello che avviene no? perché se no chiuso nella stanza a firmare a occuparmi di altre robe non so credo che mi sentirei su Marte mentre tramite la piattaforma riesco a mantenere ancora un contatto con la prima linea diciamo con quello che avviene nel vivo dei processi di insegnamento e di apprendimento ma io vedo almeno 4 grossi passi in avanti che questa esperienza ci consente di fare un primo passo in avanti è l'integrazione curricolare se vi ricordate ormai tre anni fa io penso che questo percorso forse si sia originato sia partito tre anni fa nel seminario sul curriculum quando ci siamo posti l'obiettivo ambiziosissimo per le scuole di un curriculum comune ma un curriculum veramente comune non nelle dichiarazioni rettoriche del POF dove tutte le scuole hanno curriculum comuni ma sappiamo ma non perché ce lo dicono di scienziato di organizzazione della scolastica come Piero Romero compiato Piero Romero ha prima che i curriculum delle scuole sono la sommatoria dei curriculum individuali degli insegnanti e allora tre anni fa c'eravamo posto questo obiettivo di maggiore integrazione curricolare e da questo punto di vista i percorsi insomma le unità di apprendimento che abbiamo visto da stamattina a ora credo che sia un ulteriore significativo importante passo in avanti un secondo un altro grosso passo in avanti legato all'integrazione curricolare anzi quasi una precondizione l'avrei dovuto dire prima forse rispettando un po' la logica un grosso passo in avanti in quella che viene chiamata un po' la negoziazione dei significati del proprio lavoro la costruzione di repertori concettuali e di un linguaggio professionale condiviso perché se vi ricordate una cosa era leggere il libro di Castoldi valutare le competenze che ha iniziato a diffondere ci siamo detti leggiamo è stato uno dei punti di innesco di questo percorso una cosa è leggere un libro una cosa è affrontare le mani sporcarsi le mani nei processi didattici reali diciamo calare anche delle belle teorie belle perché diciamo confezionate concettualmente bene ma affrontare le mani nella realtà e quindi io credo che da questa immersione nella realtà partito con il nostro libro in mano con le nostre belle teorie in mano usciare da questo lungo percorso di immersione nella realtà didattica credo non solo con una lettura comune ma con una faticosa io notavo questo i gruppi disciplinari dicevano la fatica di condividere di capire ma che cos'è una competenza ma allora insomma questa faticosa negoziazione del significato di questo concetto di cui avevamo sentito dire nei corsi di formazione di cui avevamo letto nei libri abbiamo provato a lavorarci terza cosa che è un altro grosso passo in avanti che credo come comunità professionale stiamo facendo quello passo in avanti nell'organizzazione del nostro contesto di lavoro come contesto di apprendimento ci siamo detti altre volte che un contesto di lavoro non è di per sé spontaneamente naturalmente un contesto di apprendimento professionale di sviluppo professionale si deve organizzare e strutturare opportunamente per diventare beh credo che tutto questo percorso possa anche essere letto come una graduale faticosa ma costruzione del nostro contesto di lavoro come contesto di apprendimento sulle competenze e qui sì il ruolo di regia della commissione valutazione è stato fondamentale perché appunto un contesto di lavoro deve essere organizzato come contesto di apprendimento e da questo punto la commissione valutazione è stata molto molto brava a tenervi sull'autore ho capito a coordinarvi a supportarvi a insomma ha svolto un ruolo di regia molto importante il quarto ma qui me ne vengono in mente quattro ma probabilmente solo di più no? insomma il quarto passi avanti che facciamo come comunità professionale è e qui riprendo un po' il discorso che avevo fatto nell'introduzione stamattina nella pratica dell'innovazione dell'innovazione prossimale dell'innovazione in oggi era dell'innovazione incrementale quella che un po' abbiamo chiamato stamattina l'innovazione democratica l'innovazione dal passo l'innovazione che usa il sapere professionale delle scuole questo enorme giacimento di sapere di pratiche di ricchezza che giace nelle scuole e che viene disconosciuto non riconosciuto non valorizzato perché l'innovazione è vista come semplice implementazione di grandi progetti o di leggi o di norme o di teorie scientifiche comunque di qualcosa che viene pensata decisa altrove altrove forse perché le scuole non sono considerate in grado di innovare autonomamente e ci sono studi molto recenti che dimostrano ahimè che forse le scuole erano più autonome prima dell'autonomia da questo punto di vista la stagione dell'esperimentazione per carità con sicuramente connotazioni caotiche un po' anarchiche di cui comunque le scuole sono solo parzialmente responsabili in quanto si è mancata una regia delle sperimentazioni una coltivazione delle sperimentazioni un supporto alle sperimentazioni una sintesi di queste sperimentazioni che è la colpa credo che non sia delle scuole ma magari dell'amministrazione nazionale e locale nel suo complesso beh ma probabilmente diciamo c'era una maggiore ricchezza di innovazione di pratiche di innovazione prima dell'autonomia con la maiuscola quindi c'era più autonomia di ricerca prima dell'autonomia con la maiuscola di quanto ci sia adesso forse anche perché adesso è rimasta l'innovazione con la maiuscola le grandi riforme la IEL l'innovazione legislativa che viene infatti implementata cioè in cui le scuole sono considerate in termini un po' impiegatizi esecutivi come esecutori applicativi dell'innovazione pensata e decisa altrove come la metafora che facevo del libro del libricino che consiglio a tutti di leggere stamattina insomma un po' come se da te fossimo tornati a te quindi al discorso proveniente da un dio da un'entità superiore magari con la mediazione di un oracolo invece che scommettere sulla capacità di conversazione riflessiva sulla capacità di discussione di ricerca dell'agorà delle piazze nelle scuole ecco qui credo insomma che oggi si sia espressa una una grossa ricchezza con tante domande su cui lavorare e sarebbe veramente delituoso abbandonabile ma io credo che tre anni fa da quel seminario sul curriculum in cui ci siamo posti questo grosso obiettivo di integrazione curricolare ormai sia partito un processo che è sempre più radicato e sempre più solido che merita attenzione cura che però credo insomma possa portarci lontano se ce lo consento un'ultima cosa senza mettere in guarazzo l'ispettore Zannoni volevo chiedere se voleva chiedere no non questo lo ringraziamo di essere qui perché appunto insomma non è facile e forse è la prima volta anche che ha preso nota di tutto però anche le ultime cose che ho detto allora voglio dire una cosa sono convinto che qualcuno sta pensando meno male che abbiamo finito no non in senso demolitorio ma ecco è importante no questo ci dice una cosa che l'altro livello che è espresso questa esperienza ci ha messo perché non si può andare avanti esattamente così nel senso che io l'ho scritto con questa metafora è come se noi vessimo da due o tre anni e adesso siamo al urbile abbiamo incubato degli elementi di trasformazione forte e però l'involto sul quale incluso il curriculum comune che abbiamo costruito è troppo stretto per contenere questo genere di esperienze per andare avanti con le cose che non sono del tutto compatibili oggi dobbiamo uscire qui domandandosi come l'eccezionalità che in fondo è stata inutile che adesso siamo in affare giustamente un po' celebrativa di autosalutazione io per prima che l'ho chiesta questa cosa qua di forza di forza di forza e io gli dicevo bisogna fare questa cosa qua mi rendo conto che dobbiamo domandarci cosa significa fare entrare nella ordinarietà perché continuare a far convivere elementi di forte eterogeneità e continuare a far convivere tutto dentro questo in volvo non è possibile perché sappiamo quando i caduti ci facciano qualcuno mi dice sì non me lo dice adesso non c'è il corridoio qui abbiamo visto che siamo maturi per fare questo salto ci sono anche elementi di contenuto che bisogna dirci con chiarezza è chiaro che io stesso le sto mettendo il cappellino di quello là che rompe e io esagero sempre forse un po' però io tre anni fa già dissi questo curriculum non è un curriculum pienamente sostenibile per tutte le facce di mani partite di quadro è un curriculum sacro prima di tutto e la metacognizione la riflessione la negoziazione quelli di tarsi che fanno in prima sono non sono compatibili ancora attualmente per far diventare ordinarietà le esperienze stupende che avete fatto non lo dico senza piacere non sono compatibili e siccome non è sostenibile fino in fondo per tutte le fasce prevagono elementi e ritmi direttivi e allora il sistema di ragionamento è questo il nostro sistema non perché noi non abbiamo scelto una pedagogia ma perché ci siamo costretti con le nostre mani dentro questo sistema il meccanismo che è prevalente non dico l'unico ma ancora prevalente che è tardi ad essere dismesso per forza di cose è un sistema che appunto ha motivazioni tipo estrisseco la combinazione punizione di premi e ancora lo strumento gli strumenti di controllo sono ancora quelli dominanti allora ci dobbiamo interrogare se è inevitabile forse inevitabile questa cosa però continuare dentro la convivenza di queste due cose porta a a a a dei problemi individuali e collettivi perché i contesti e chiudo con un'unica ancora rai i contesti che erano tutti che erano fiali c'erano anche i video erano tutti esaltavano la partecipazione della creatività dove le infiliamo queste cose quando le infiliamo facciamo degli esploi oppure le infiliamo secondo me siamo un biglio siamo un biglio e bisogna secondo me avere il coraggio non di fare delle rivoluzioni perché noi queste cose le abbiamo costruite pezzo per pezzo con sacrificio giorno per giorno cambiando buttando però ora noi siamo arrivati voi avete fatto in modo che fossimo arrivati la soglia per cui la crisale spacca tutto perché non è possibile e penso che nessuno voglia abbandonare quei livelli di tristezione penso all'esperienza di terza con i ragazzi di italiano con le terze e avete detto che era fortemente appunto formalizzato ma secondo voi ma ragionando intorno al tavolo qua ma non era formale non c'era nessuno c'era un voglio non c'era niente si ragionava ma secondo voi ha senso o non ha senso è possibile in situazioni non così orchestrate ma che le competenze che ci sono tra i bambini e gli allievi siano viste in circolazione ci siano forme in sistemi informali per cui voi aiutate gli altri cioè basta che non siamo tutti imbragati che non siamo non mettiamo su queste queste cose complesse ma che uno dice c'è quello che sa fare quella cosa ci sono dei tutor per esempio più grandi o pari di bene che sa fare delle cose guida non insegnano questa roba qua profonda però bisogna ancora fare delle scelte draste e basta metto tutto qua insomma credo che ci possiamo lasciare con questa domanda se vogliamo andare avanti io lo vado avanti ma ecco chiaramente non possiamo andare avanti con il gestione della regola non voglio dire che è casuale e occasionale ci sono tanti momenti ci sono tanti altri momenti non è che dentro i laboratori non si vivono queste esperienze che dentro le singole discipline anche non si lavora così però forse oggi abbiamo la consapevolezza la forza l'energia l'esperienza un linguaggio comune che sta crescendo per spessare gli ultimi diciamo orpelli e dare coraggiosamente verso un cambiamento traiettorico soprattutto io credo bisogna avere il coraggio di prosciugare con i processi perché se noi andiamo verso crediamo che la riflessione sui processi formativi sia il centro vitale della nostra crescita nostra di tutti dovrebbe essere e noi dobbiamo creare più vuoti dentro il curriculum non continuare a riempire bisogna prosciugare creare dei buchi perché nei noi nei bambini rispetteranno negozieranno mediteranno confronteranno le cose se noi continuiamo a infarcire il curriculum penso che ne abbiamo in questo in questo senso di strada da fare dal punto di vista dell'architettura organizzativa ma veramente con oggi è un segno forte che abbiamo ora davvero la muscolatura attrezzata per reggere questo peso speriamo che qualcuno ci dia anche la possibilità di farlo grazie grazie grazie